Benvenuti sul canale Montefeltro, la musica che ascoltate in sottofondo è George Friedrich Handel, l'opera numero 4 per organo e orchestra solenne. Ed Austera ci accompagnerà per questa meravigliosa sbalbata che insomma vede qualche novità perché io esco in video quando ho qualcosa di interessante da farvi vedere. Ciancio alle bande, vediamo subito il setup. Il pennello lo vedete è un botti in cavallo da 26 mm, crine di cavallo, non so se è nato bianco o l'hanno sbiancato, onestamente non lo so. Comunque ha anche un bel manico e vi assicuro essere un pennello eccezionale e se no non lo avrei portato in video. Il rasoio è il Colibri di Home Like Shaving, il rasoio ha un gap di 1,30 però ha l'esposizione neutra quindi si riesce a gestire abbastanza bene. E poi una lama vintage però non troppo, insomma è ancora bella performante, una Bolzano Super Inox al platino che ormai fuori produzione da qualche anno. Il set Essence di Andrea Bianchi cioè A&B Cosmetics con la nuova formula 2023. Rapidamente abbiamo dato uno sguardo a queste novità. Volevo farvi vedere il pennello, ecco, l'avete visto già prima nella fotografia però. Questo è un pennello, ve ne parlo proprio due secondi, in cavallo da 26 mm che ho assemblato io, ho comprato il manico, il ciuffo, non ho fatto niente di speciale, ho solo incollato questa parte a questa parte. Sono genio, è una cosa normalissima, almeno per me, perché a me piace assemblare. Dicevo questo pennello è molvidissimo, non l'ho ancora bagnato, è proprio come così, perché non ha bisogno di ammolli, basta buttarlo un secondo in acqua calda ed è pronto. Non è pungente, ha anche un pochino di backbone, sì, direi di sì, e regala un massaggio con un lievissimo scrub che fa bene, ha la pelle e soprattutto ha una morbidezza incredibile. Adesso lo metto un attimo in acqua, ecco, l'ho pucciato, uno, due, tre e quattro pucci. Naturalmente, ecco, fatto, pronto. Uh, che piumino. E andiamo immediatamente... Qua ho fatto un casino, stavo svuotando, ma come sapete l'età, oh, io faccio quello che posso. Come state ragazzi? Andiamo a prendere un po' di sapone, essence, poi ve ne parlo, da cosa deriva, da cosa è stato modificato. Questa è la nuova formula 2023. Andiamo a prenderne un po', ma non tantissimo, perché è un sapone che rende un casino, nel senso che con pochissimo sapone si fanno tante di quelle passate, che alla metà basta. Ecco qua. vedete che io ho la mia fida, perché ancora uso l'acqua calda dentro. Lo so che siamo a maggio in oltrato, eh. In oltrato, via. All'inizio di maggio, almeno per chi lo vede subito, poi potrebbe essere anche a dicembre, per altri. Metto un goccino d'acqua insieme al sapone, ecco qua. E ora andiamo subito a inglobarlo. Vedete? Oggi sono un po' di poche parole, mi scuserete, ma c'è un motivo, eh. Il motivo è che sono le 5.00 di mattina, mentre sto registrando e sono sveglio, ho bevuto un caffè, ma ribagno un attimo il pennello, ma piano mi sveglio durante la sbalbata. State tranquilli, che vi tedio. E vado a inglobare questo magnifico sapone di cui vi parlerò approfonditamente durante il corso della sbalbata. Vado a inglobare il sapone all'interno di questo meraviglioso ciuffo Boti. Ragazzi, Boti con questo ciuffo in cavallo ha fatto un lavoro eccezionale. C'è da dire una cosa, e questo lo premetto. Io, in tanti anni di rasatura tradizionale, diciamo che il cavallo l'ho sempre lasciato un po' così, me ne sono disinteressato. Anche perché è un V-Long, io, misto tasso-cavallo, che ho comprato una decina d'anni fa, ma punge come un puntaspilli, quindi è chiaro che non l'ho mai considerato più di tanto. Ok, abbiamo perfettamente inglobato nel ciuffo. Cosa mi dite? Sì, dai. Eh, hai voglia. E bagno il viso e iniziamo la sbalbata, il montaggio, e vi dico tutte le novità di questa nuova Formula 2023 di iB Cosmetics. Mi bagno, eh. Ah, bella calda. Io, sinceramente... Ma sentite che musica! Uh! Dicevo, io sinceramente, eh, alle sbalbate fresche ancora non ci sto pensando. Poi in estate vado di mentoli, fruttati, eccetera, ma ancora io sono per le note scure, per il momento, eh. Poi, ovviamente, quando faranno 40 gradi all'ombra, cambierò sicuramente idea. Volevo parlarvi dal ciuffo in cavallo, prima di tutto, già parlarvi. Ha anche un discreto backbone, non punge, ma garantisce un po' di scrub, bagno, eh. Bagno punte, garantisce un po' di scrub. Come potete vedere, passo così, di palo in frasca, alla nuova Formula di sapone di iB Cosmetics, questa monta in un'amen, nel senso due giri di pennello, rispetto alla Formula 2022 c'è un grande passo in avanti. Però, io che ho avuto modo di provarla per un po' di tempo, posso dire che le cose non si fermano qua, perché il passo in avanti l'ho notato anche nel performance sulla pelle, cioè di quello che ti lascia sulla pelle. Non che la 2022 andasse male, eh. Avevamo provato assieme Black Woody, e il risultato fu grandioso. Però, io ho notato, continuo a dargli acqua, perché questo è un sapone che ne prende tanto, io per dargli acqua intingo il pennello fino, fino, fino qua, proprio per una frazione di secondo, non mi faccio tanti problemi. Dicevo, quello che mi lascia in viso è, eh, anche meglio di Black Woody, cioè una pelle vellutata alla fine della rasatura, ma poi ne palleremo. Cioè, ho notato una scorrevolezza maggiore, un'emolienza maggiore, perché la mia balbaccia dura, la, 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 la conoscete, è una brutta bestia, è veramente una brutta bestia. E, naturalmente, io faccio anche i movimenti circolari col cavallo, dicono che non sono da fare, ma se mi danno godimento, perché devo non farli. Ora faccio un po' di buco qua, metto acqua, qua ci va acqua. E, mi ammorbidisce la barba, mi elasticizza la pelle e prepara alla rasatura, anche senza utilizzare specifici pre barba, in maniera, a mio avviso, almeno è la mia pelle che palla e poi lo sappiamo che ognuno di noi può essere una storia diversa. Ah, che scrub! E ho notato grandi differenze tra la 22 e la 23. Secondo me vale la pena. e ora, naturalmente, mentre finiamo il montaggio e iniziamo la sbalbata, perché il montaggio è già quasi finito, ne ho bisogno solo di ancora un po' d'acqua. Guardate qualche roba. Guardiamo anche della fragranza. Qua ci sarà da ridere perché sono io che sono piuttosto ignorante in materia di profumeria. non mi sono mai vantato di essere un grande conoscitore, però le cose buone mi piacciono. Allora, c'è un profumo che si chiama Bruno di Acampora, detto anche nero. Io non lo conoscevo, proprio zero assoluto, eh, ragazzi. Vi dico... Questo profumo non lo conoscevo per niente, perché sono ignorante in materia di profumi. Io di solito, da Buon Ligure, evito di spendere 100, 200, 300 euro in un profumo, perché... Prima non me lo posso permettere, secondo mi sembra una cosa fuori dal mondo, ma questa... Guardate qua. Io vi voglio far vedere queste cose, perché queste cose valgono più di tante parole. Qui abbiamo una cosa idratata. Naturalmente non poteva mancare lo sbrodolamento, ma chi se ne frega, in rasatura ci sta e come. E dicevo, a me piacciono le cose buone. Io poi so, sai, di chi è Bruno Acampora nella sua storia. Lo so che sono ignorante, eh, però voi mi perdonerete. Questo è un profumo che innanzitutto rimane presente. Non è intensissimo, però rimane con eleganza, estrema eleganza, presente durante tutta la sbalbata. E questa è una cosa che mi piace, perché si vede che il mio naso non rimane assuefatto. Profumo. Io ho parlato con il produttore. Mi ha detto che è vero che è un'ispirazione, però non è esattamente uguale. Ci ha messo del suo. Ci ha messo del suo, a mio avviso, per renderlo all season. Perché, infatti, lui di suo è un ambrato legnoso, come Acampora. Però qua apre con un agrumato importante e qualche nota di spezie a zafferano. Poi evolve in cedro e paciuli. Ora, queste sono note abbastanza conosciute. E poi, vira su note più scure, di ambra, muschio, legni. Insomma, questo te lo porti dietro tutte le stagioni. Magari proprio in ferragosto, solo in una situazione serale. Ma validissimo. Allora, questo è l'online sharing colibrico, il gap, non credo che si legga, da 1.3. Non spaventatevi per il fatto che il gap sia così elevato. Perché l'esposizione è neutra ed è, sì, un rasoio estremamente efficace. Sì, un rasoio non adatto a chi inizia. Ma è un rasoio per chi ha una mano leggermente allenata da un anno, un anno e mezzo di rasatura che vi porta via la barba, che è un piacere. Andiamo, stiamo attenti alla basetta, devo stare molto attento alla basetta perché io con le basette faccio dei macelli, non so voi. Questo non ha bisogno di alcuna pressione, io lo tengo. E vado tranquillo. Non seguo neanche il face mapping con questo rasoio, con questo sapone, da quanto sono... oggi facciamo una rasatura senza face mapping. L'angolo è estremamente intuitivo, ma ha anche dei lati negativi a questo rasoio. Non mancherò certamente di parlarvene. in particolare uno. Ve lo dico subito, così ci leviamo. Tanto spuntano molto le alette della lama. A me questa è una cosa che proprio non mi piace. La Bolzano si comporta da Dio, pur non essendo fresca, è una metà vintage. Questo è un rasoio con mano leggera. te ne freghi del face mapping, vai tranquillo. Prima o poi arrivi dove devi arrivare. Infatti vedete che io sto facendo la rasatura così. Premetto che dato che siamo in primavera un po' inoltrata, io... non che io soffra di allergia, o almeno da ragazzo ne ho sofferto. Però cosa mi porta a questo cambio di stagione? Mi porta a un indebolimento della pelle. Mi ho parlato anche con alcuni amici sul gruppo Montefeltro What's Shaving. Vi invito a iscrivervi naturalmente. È un gruppo Facebook di appassionati della rasatura tradizionale, ma lo conoscerete. Dove la passione viene messa al primo posto in assoluto. In questo periodo dell'anno, la mia forma tra virgolette di allergia si trasforma in una pelle abbastanza... sapete come diciamo in Liguria? Debulicciata. Cioè, una pelle piuttosto debole. Debulicciata. Eh? Magari qualcuno lo conosce questo termine così... Candle ground di noi Liguri. Qua c'è anche un brufolazzo, ma... Oh, non voglio fare scusazio non petita, accusazio manifesta, eh. Ok, basta. Passata di pelo andata. La barba era di due giorni, diciamo che è stato tolto il 90%. Adesso si tratta di fare altri due passaggi e andare alla perfezione. Perfezione. La perfezione non è di questo mondo. Mi sciacquo. Non ho spinto per nulla, il sapone insieme al rasoio hanno fatto un lavoro incredibile. Io praticamente non ho meriti. Sono solo qua così. Ragazzi, volevo ringraziarvi. Lo faccio sempre, ma ovviamente lo faccio con il cuore e sono contento. La volta scorsa, durante due mesi fa, durante il mio ultimo video, siete stati veramente molto caldi. Io amo quando ci sono tanti commenti, perché è un momento per stare assieme, un momento che a me piace. Se avete delle domande, se anche solo se volete fare un semplice saluto, io vi esorto a commentare qua sotto nel box commenti. Io rispondo a tutti e sono felice di farlo. Non mi pesa assolutamente. Anzi, più commenti ci sono, più mi diverto. Ora, facciamo un bel traverso, veloce veloce, cioè non veloce di quelli che mi faccio male, però... Poi voglio salutare Alex Nors e tutti gli amici del Montefeltro Wet Sharing Group e tutti voi che ci seguite attraverso il canale YouTube. Ma io non sono un youtuber, eh? Io sono uno che si fa la balba, che non conta niente, utilizza rasoi un po' performanti perché ha la balba dura e non perché vuole fare lo spaccioso. Io potessi utilizzare rasoi delicatissimi, ne sarei contentissimo, ragazzi. Allora, vi ripeto rapidamente, il sapone, le note olfattive, un ambrato legnoso, veramente molto buono, elegante, quattro stagioni, un ambrato legnoso con zafferano e agrumi nelle note di testa, Oud, Cedro e Paciuli, sto leggendo, eh? Non è che vi voglio prendere per il sedere, ho il bigliettino scritto a mano, perché io al computer non li scrivo, e ho notte di fondo, ambra e nuschio e c'è anche dei legni, io lo sento, non è ripoltato, ma ve lo dico io, almeno quello che il mio nasaccio sente. Per l'ottraverso con questo colibri di home like shaving, wow, che sensazione l'Italio, ragazzi, ci fare un po' più piano perché, per due motivi, primo, non voglio squaltarmi, seconda cosa, sono stato sgridato sempre, mi sgridano sempre. Eh, ma fin da quando ero ragazzo che andavo a scuola, a me mi sgridavano, ma non per il solito, ma per il tutto. Ragazzi, io sono sempre stato uno che, anche se con garbo, vabbè, garbo non lo devo dire io, comunque, anche se con tutte le delicatezze del caso, sono sempre andato contro le regole, non mi sono mai uniformato, sono un disgraziato. Ok. Ah, e anche il traverso è andato, abbiamo, se proprio vogliamo, facilitarci il conto, il, il, sì, il conto. Se proprio vogliamo facilitarci la terza passata, di contropelo che faremo, con questa bestiolina. Ho tolto un po', vediamo un po'. Allora, qua c'è da togliere ancora tanto, qua anche, poi oggi, tra l'altro, non ho seguito il face mapping, e quindi sono un po' così. La pelle sta benissimo, eh? E' acqua. Non ho preso molto sapone, eppure è ancora entriso, vedete? Brufolino è venuto via, ma va bene. Dov'è il problema? Dov'è il problema? Non esiste il problema. Non me ne ero neanche accolto, me ne sono accolto adesso, guardando allo specchio. Ah, che scrub meraviglioso questo pennello, guardate, pagato veramente un tozzo di pane, ma un tozzo di pane vero, eh? E' una goduria, una, una resa che, 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 che... Io non so in tanti anni come ho fatto a non considerare l'equino. Sicuramente, quel tasso cavallo della Via Long che ho comprato una decina d'anni fa, non ha aiutato, nel senso che, veramente, eh, ragazzi, funge. Io non ho... Qualche volta l'ho usato con barba molto lunga, ma poi... L'ho lasciato un po' in dimenticatoio, eh? Fantastica questa nuova formula 2023 di A&B Cosmetics. Andrea Bianchi ha fatto un colpo qua da Miele Punti. Io so che è in elaborazione per l'anno prossimo la nuova formula, non dovrei dirlo, eh, poi magari... Però, sono stato informato, è ancora tutto un divenire, però nel 2024 ci sarà un'ulteriore evoluzione. Allora, pulisco le mani per fare il contropelo, ragazzi, pulisco, mi metto la lume sulle mani perché per fare il contropelo con questo rasoio... Ecco, il contropelo magari è un po' più... Però è godurioso. È proprio la sensazione di taglio. Perché avendo un gap così elevato, anche se ha l'esposizione neutra... Eh, ragazzi, dice la sua, eh? Nella maniera più assoluta dice la sua. Poi facciamo qua, che qua c'è sempre qualche peletto che bisogna prendere in questo modo. Poi qua, vabbè... Ecco. Giusto per capirci. Che meraviglia. Poi cosa ne pensate del contropelo? È ovvio che all'inizio si sconsiglia, eh? Perché a noi ci segue anche tanta gente che è all'inizio del loro percorso, alla quale io dico non fate assolutamente quel che mi vedete fare a me, ma non perché io sono un genio, perché semplicemente è solo qualche anno che, insomma, ci do dentro, eh? Con la rasatura tradizionale e tante cose se le avessi fatte all'inizio, ma forse le ho fatte, ma mi sono scontato. Ragazzi, quando ho iniziato io c'era il Fatib Dracula, quella roba lì. Cioè, poi è vero che c'erano anche i Gillette, quelli più... Quelli più dolci, però... Io già fin da ragazzo... Avevo la barba dura. Adesso sta diventando veramente... un qualcosa di veramente brutto. Cioè, a me non piace avere la barba dura. Io so che c'è gente che... vorrebbe averla. Io vi dico, no. Vorrei tanto avere la barba tenera. Farei prima, mi sbatterei di meno. Per fortuna, negli anni, ecco quello sì, sono riuscito a condizionare un po' la pelle, in modo che non sia troppo delicata. Però vi assicuro che io ho iniziato con una pelle proprio da bimbo, ero un bimbo, eh. E... Ragazzi, mi sono squaltato per due anni, quasi, un anno e mezzo. Ma perché non ho mai fregato niente di nessuno? Io andavo, facevo... sapevo che il rasoio tagliava, ma a me fregava niente. Io dovevo fare il presto, poi andavo in giro, che sembrava che avevo litigato con una colonia di felina. Ok. Io intanto approfitto, perché questo sapone ha una lubrificazione secondaria pazzesca. Io sto facendo contropelo che ho già finito, ma anche ritocchi, perché... non c'è bisogno di dare altro sapone, cioè... benissimo così. L'unica cosa che farò, perché non sono un suicida pazzo, dato che qua sotto io c'ho un punto che sono peli durissimi, eccetera, un po' di sapone lo do per far scivolare ancora meglio. Ecco, questo sì, lo faccio. Qua seguo proprio il vaso del contropelo. Ok. Non si vede un tubo? Eh? Eh? E io qua sento grattare, non va bene. Io non devo sentire grattare. Poi è ovvio che... non sono un fissato del Super BBS, però grattare no, ragazzi. Poi uno si può anche accontentare, perché è ovvio che quando c'ho dieci minuti di tempo per farmi la balba e devo andare in ufficio, non posso fare tutte queste manfrine di passate e ripassate e contropassate. Basta, io direi che ci siamo. Ecco. Le conclusioni e le considerazioni finali si avvicinano e ci sarà un po' da dire, ma non esageratamente, ragazzi. Mi sciacquo. Acqua gelata. Ah, è melgo. Fatemi chiudere il rubinetto dopo una lunga stazione in acqua ghiacciata, che è il top per chiudere i cuori. Per me, naturalmente, nessuno è uguale, ognuno è magnificamente unico. C'è chi ama stringenti, io li ho provati tutti, ma non me ne funziona uno, nel senso che se io uso un buon set sapone, tutto ciò che metto dopo non mi fa bene. Allora, mettiamo gli occhiali, perché se no non vediamo niente. Direi che ci siamo. Sono molto soddisfatto del risultato e adesso, prima di parlare delle conclusioni, è il momento dell'aftershave alcolico che io amo fortemente insieme a questa musica meravigliosa. Essence Abbey Cosmetic Goduria. E qua il soggello aromatico e cosmetico prendono il volo, spiccano per altissimi lidi. Ragazzi, io non sento bruciare, eppure l'alcol c'è, ve lo assicuro. Però non sento bruciare, sento la pelle che si ristabilizza, ne do ancora perché a me piacciono. Scusate se ho fatto un po' scomposto, dei movimenti scomposti. E ora valdiamo un po' dei prodotti, anche se ne abbiamo un po' appallato. Per tutta la sbalbata, così un po' arate, bisogna dire la verità. Un po' di fresco, che male, non ci sta mai. Che sbalbata ragazzi, sono veramente emozionato. Poi la cosa di essere qua insieme a voi... Prima cosa, come sta la pelle? Una figata, proprio meglio di prima che iniziassi a sbalbarmi. Ma questo non lo dico per fare il piaccione, perché io quando ho avuto da dire con qualche tipo di prodotto che non mi piaceva, l'ho sempre detto, voi siete testimoni. IBS Sense Introduco Nuova Formula 2023 Monta in due giri Scorrevolezza incredibile Veramente scorrevolezza incredibile Io di protezione non ne parlo, perché secondo me il Supone non protegge una bianamata mazza Cioè una lama e una lama Però questa è una mia idea personale, ognuno poi deve avere la sua, eh Perché se uno ha la sensazione che il sapone protegge, è giusto che tenga quella sensazione E a me la cosa non disturba assolutamente Comunque secondo me non proteggono i saponi Secondo me è molto emolliente Cioè il pelo, anche il mio che è particolarmente duro, te lo ammolbidisce moltissimo E la pelle risulta non solo morbida ma elastica Cioè nel senso che è difficile poi, a meno che uno non faccia delle azioni sconsiderate Ma in un'azione normale di rasatura è difficile andare a tagliarsi Forse questa la protezione che molti chiamano protezione Io non sono d'accordo, però questo è il mio concetto di protezione, ecco Magari non siamo d'accordo sui termini L'after shave ha, rispetto alla formula passata, dei lenitivi in più E ancora più cosmetico Magari ve lo dico a fa, fantastico Pelle meravigliosa, rasatura uscita bene Io non sento da nessuna parte grattare Questo anche grazie, naturalmente Alcolibridium like shaving Con un gap di 1.3 Vedete, qua No, forse devo fare così per farvi vedere bene Ma non è mai Qui i miei mezzi sono veramente Ha lavorato bene con le lamette Bolzano Superinox al Platino Vintage E poi un merito particolare A questo gioiello che ho già lavato prima Ah, fin dal primo utilizzo Non ha puzzato di animale stallatico Perché ricordo al Vielongo di dieci anni fa Che per dei mesi ha puzzato E sembrava di essere in una stalla Che poi tanti dicono è profumo Sì, sarà anche profumo Però a me non piace il profumo Molbido fin dal primo utilizzo Non ha bisogno di ammolli Lo metti in acqua e lo usi Questo ciuffo io ritengo Vabbè il manico ce lo avevo già in casa E quindi Il ciuffo l'ho pagato 11 euro circa Ma ne vale un botto di più Bene, abbiamo fatto un po' assunto della situazione Siamo pronti per chiudere la nostra colbata Non prima di avervi ricordato Di iscrivervi al canale Montefeltro Whatsharing Per vedere I miei video E altri video Dei nostri carissimi amici Del gruppo Facebook Montefeltro Whatsharing Cercateci su Facebook Iscrivetevi E condividete la vostra passione Sarà un ambiente meraviglioso Non la tiro per le lunghe Perché i miei video sono famosi Ormai in tutto il web Nella nostra nicchia Per essere dei video molto lunghi Stavolta forse sono riuscito a fare un po' meglio Vedremo poi alla fine Grazie amici Grazie di cuore Commentate qua sotto nel box dei commenti Anche solo per un saluto A me fa piacere Ci vediamo alla prossima Da Pietro Mangini è tutto Per il gruppo Montefeltro Whatsharing Grazie.